ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video è un video sul refil fatto da una mia cliente e la ricostruzione precedente è stata fatta con tip quindi questo refil la cliente ha scelto questo bellissimo colore di passioni unghie che si chiama ombra e nel video faccio vedere che dodo passate ma io l'ho data una terza perché questo colore rimane leggermente trasparentino infatti come vedete già dalla prima passata e poi niente sono andata ad applicare il nuovo lucido di passioni unghie che ho preso io ho acquistato easy gloss e mi ci sto trovando veramente bene che l'ho operato anche su da me una bomba e lo sgressato con il cleaners e poi alla fine con le cuticole scusatemi per il mio dito il mignolo dell'unghia che come vedete non c'è più l'unghia perché ci ho dato una bella botta e quindi mi è saltata l'unghia perché ho dato una bella botta forte però dopo quando la cliente era andata via me la sono rifatta l'unghia quindi adesso ce l'ho tutte e 10 e niente comunque spero che il video vi piacerà se sarà così metterete pollice in su sotto il video se volete mi commentate e noi ci vediamo alla prossima un bacio ciao 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 ciao